Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il volume Fondamenti di elettrotecnica generale. Autore Danilo Tommassini, editore Libri Sandit. È un volume di 250 pagine, quindi è un volume importante, ed è diviso in 5 sezioni. Si parte dalla corrente continua, si passa poi alle reti elettriche in regime stazionario, magnetismo ed elettromagnetismo, fenomeni transitori nei circuiti RL e RC e si termina con le correnti alternate. È un volume adatto per studenti di elettrotecnica, per studenti di impianti elettrici civili ed industriali e per studenti di automazione e per tutti coloro che vogliono approfondire oppure imparare partendo da zero l'elettrotecnica. Buona visione a tutti e buona lettura. Vi aspettiamo per il prossimo nostro video e se volete potete anche iscrivervi al nostro canale. Grazie 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 Grazie